Serena Mollicone era una giovane ragazza, dieciottenne, che amava la vita, amava gli animali, amava la musica, suonava nella banda del paese, si apprestava a vivere l'anno più bello che è quello che prelude all'università, infatti si sarebbe iscritta a settembre in una facoltà universitaria, stava appunto preparando la tesina quando è stata assassinata. L'omicidio di Serena Mollicone, uno dei casi di cronaca nera che ha scosso per oltre 20 anni l'opinione pubblica. Una vicenda al centro del libro La ragazza del bosco, verità oltre l'inganno, un testo nato dall'esperienza di Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa, e di Federica Nardoni, avvocato penalista esperto in reati contro la persona. Il libro è stato presentato ad Arezzo nel corso della nuova stagione di incontri organizzati dall'Associazione Cultura Nazionale. Un caso ancora aperto, ci sono gli appelli, c'è ancora un processo in corso per dare il pieno a luce a quello che è successo a questa povera ragazza. Sabrina Mollicone scomparve a metà mattina del primo giugno del 2001, due giorni dopo fu ritrovata cadavere nella tarda mattinata in località Fonte Cupa a Fontanaliri in provincia di Frosinone. La morte è stata determinata da asfissia meccanica dovuta a un colpo contro una superficie piatta che secondo noi è la porta della caserma di Arce. Il tribunale di Cassino aveva assolto in primo grado tutti e cinque gli imputati per insufficienza di prove. A finire sotto processo l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, la moglie, il figlio e due carabinieri. A breve si aprirà il processo in corte d'appello. Questo processo ha sempre destato l'attenzione della procura perché Guglielmo Mollicone è stato un papà coraggio, il papà di Serena e non si è mai arreso. Quindi anche quando ci sono state delle battute processuali di arresto comunque ha sempre evidenziato nuove prove. a seguito dell'archiviazione e dell'opposizione dell'archiviazione formulata da Guglielmo Mollicone sono state eseguite delle consulenze scientifiche che hanno permesso di celebrare l'attuale processo.